Possiamo dire che è un'attività che nasce da un controllo delle nostre pattuglie autostradali e l'intuito dei colleghi ha fatto sì di avviare questa attività particolare che si è conclusa nelle prime ore di questa mattina con l'esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare a carico di soggetti sedenti nel territorio di Taranto. Parliamo di attività in associazione tra i soggetti per l'autoriciclaggio di autovettura. Diciamo che lo spaccato di natura economica, tenendo presente che le autovetture che venivano utilizzate per questa attività criminosa sono autovetture di grande valore come Ferrari, Maserati, Porsche per cui il valore complessivo del sodalizio si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Questo diciamo come spaccato generale.